Torna l'ipotesi Buccino per la delocalizzazione delle fonderie Pisano di Fratte. La supposizione sarebbe legata alla richiesta avanzata nuovamente dalla proprietà alla Regione Campania della valutazione di impatto ambientale di verifica via per il progetto Fonderia di Ghisa di seconda fusione. Il plico, con un progetto da 40 milioni di euro e con gli atti necessari, sono ora in fase pre-istruttoria e dovrà essere valutato. Un atto importante per procedere con la delocalizzazione dell'impianto di Fratte nell'area industriale di Buccino, anche se c'è sempre il ricorso al Consiglio di Stato che il Comune di Buccino ha presentato nel dicembre del 2020, oltre al dissenso degli abitanti degli Alburni. Un nuovo tentativo non credibile per il Presidente del Comitato Salute e Vita, Lorenzo Forte, che parla anche di un blitz nei giorni scorsi proprio all'impianto di via dei Greci a Fratte. Noi abbiamo delle perplessità sulla volontà vera di andare via perché ci chiediamo come mai ci ha messo nove mesi per presentare di nuovo la documentazione. Già nove mesi fa la presentarono e fu addirittura bocciata immediatamente. Già c'era un ritardo di un anno perché andava presentata già un anno prima. Quindi noi fino a quando non vedremo i fatti concreti che l'ultima lamiera della fonderia, l'ultimo pezzo di quello stabilimento a Busoleto che ci ha Fratte, non crediamo alla volontà vera di fare questo. Perché? Perché pochi giorni fa c'è stato un ennesimo blitz dei Carabinieri De Noe, dell'Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri e dell'ARPAC che non sappiamo che cosa è successo. Voci girano che hanno avuto comunque delle sanzioni, hanno avuto comunque dei controlli sia sulla cooperativa sia sull'azienda, però questo non abbiamo certezza e vorremmo sapere la verità. E quello è il dubbio che abbiamo, che ogni volta che succede qualcosa che mette in pericolo, giustamente la chiusura, la richiesta che noi avanziamo è che quello stabilimento chiuda oggi perché ogni giorno che c'è quello stabilimento a Fratte significa perpetrare il disastro ambientale che è stato certificato in quell'area causato dalle fondi di Episano. Ogni volta che succede qualcosa esce fuori l'ipotesi Buccino, si dice aspettate perché non andiamo via. Noi vogliamo i fatti, non vogliamo le chiacchiere. Presentare un progetto poiché nove mesi fa si fece la stessa cosa e ebbero la faccia tosta di presentarlo non rispettando secondo quello che scrisse la Regione addirittura le norme vigenti. Onestamente siamo tiepidi e freddi su questa cosa. Noi ce la curiamo che sia vero per i lavoratori, solo per i lavoratori, perché noi la nostra battaglia è per garantire il lavoro, la vita e la salute dei lavoratori e dei cittadini. Quindi è chiaro che auspichiamo che sia vero questa volta, ma abbiamo dubbi seri. E anche perché, e concludo, abbiamo le dichiarazioni di Vincenzo De Luca, il Presidente della Regione Campania di un mese fa, che dicono che accertano ancora una volta che le fonderie di Episano a Fratte inquinano e non fanno nulla per non inquinare e quindi vanno chiuse. Aspettiamo ancora che il Presidente della Regione ci convochi perché abbiamo chiesto un incontro perché lo stabilimento va chiuso immediatamente.